La più cordiale buonasera da Daniele Polcelli, dal Palacarucci di Terracina in compagnia del Presidente della Federazione di Latina. Giancarlo Benzanetti, buonasera Presidente. Credo che sia sicuramente il giusto epilogo di una stagione molto intensa e molto bella. Le società sono rimaste abbastanza soddisfatte di tutta l'attività e questo epilogo con la Coppa Provincia credo che sia il coronamento dei sacrifici che hanno fatto queste società. Ecco Presidente, l'anno scorso la vincente, detentrice anche del titolo, il Flora, alzò la Coppa al Palabianchini di Latina in quell'occasione poi, grazie alla gratuita dei pescaggi, la porto nel campionato regionale. La speranza è anche che quella di questa sera possa arrivare allo stesso risultato. Sì, il principio è sempre lo stesso, comunque chi vince la Coppa questa sera è la prima gratuita per quanto riguarda i ripescaggi in maniera di massima non ci dovrebbero essere problemi per la categoria superiore, però ripeto sempre considerando le procedure che ci sono in corso. Ecco Presidente, lei è stato presente già nella precedente giornata che ha caratterizzato proprio sempre qui nel palazzetto della cittadina Tirrenica, le semifinali, queste due squadre sono approdate proprio a quest'ultimo atto grazie a Real Potecora, il Roccasecatevosci, 8 a 7 dopo i calci di rigore, lo stesso identico risultato, la Sisse contro il Maracanà, due partite avvincenti. Sì, sono state due bellissime semifinali, credo che il Maracanà all'ultimo momento ha perso questa opportunità, questo sta a significare che la Coppa Provincia come l'abbiamo studiata quest'anno è la soluzione migliore perché nessuno pensava che il Maracanà arrivasse in semifinale, se l'è giocata fino all'ultima, tutto sommato credo che siano in finale due squadre che se lo meritano. Ecco Presidente, poi avremo anche modo comunque dopo la gara di risentirci, ma una battuta, chiediamo soltanto una rapida risposta, ma non peraltro anche perché sta giungendo il direttore di gara in campo per questo inizio di gara, una stagione che comunque come la va a tracciare? Perché se andiamo proprio per dire regola è la sua prima vera stagione, a cavo, è una parola un po' antipatica, ripetere, comunque a presidio di questa federazione, con questo comando di Latina. Non sta a me giudicare l'operato che noi abbiamo fatto come comitato, sono le società che dimostrano il loro interesse e il loro entusiasmo questa prima stagione. Spero sicuramente di fare ancora meglio, ripeto, però il giudizio spetta alle società e non a me. Vabbè, comunque Presidente è molto magnanime, sorride anche perché è giusto quello che è stato fatto. Con noi non parlerà mai come si è trattato in diverse situazioni di lamentere, noi piuttosto siamo sempre per il costruire sempre meglio questa provincia. Grazie al suo comunque operato, la ringraziamo anche di essere venuti ai microfoni di Mondo Futsal, ma noi è giusto doveroso chiedergli anche un congetto, ci prepariamo a questa finale, l'ultimo atto. Ci risentiamo dopo, grazie Presidente. Grazie a voi. Bene, e comunque a questo punto siamo pronti, le squadre stanno ormai scendendo in campo, hanno effettuato il rito del riscaldamento pre-gara. Abbiamo ricordato, il Roccasecca De Volsci si presenta a questa finale dopo aver battuto il Real Potecora con il risultato di 8 a 7 dopo i calci di rigore, una sequenza di calci di rigore molto molto inimportante che comunque ha dato la possibilità alla squadra delle pine di poter giocarsi questa ultima chance che tra l'altro potrà dargli la possibilità di alzare questo ambito trofeo. Ma siamo pronti, andiamo a vedere che cosa è successo.